Sono morti per la patria, onore, eterna gloria. Sono morti per la patria, onore, eterna gloria. Sono morti per noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amore. Prego. Tutto il Vangelo è nostra linea, ma anche la profonda intelligenza di uomini che forse si sono ispirati al Vangelo, nelle loro fiamme moribili, perché nel potere della mia escuso, ma certamente fanno preso il pancerone, magna calda, della loro attività, quanti hanno segnalato questo, il valore della donazione. Qualche giorno fa, in occasione del giudeo delle associazioni di volontariato, nella giornata della carica, la giornata che stava un livello, dove doveva dire che c'è, dove mi ascolti, sempre, perché non è il treno di freno, non è il treno di freno. Ho citato, in fondo, a cui non ci serve anche il caso di citare Cercic, ma si cita, non d'autore, si cita la cosa vera che un autore dice, Santo Maggio D'Armino, che è Santo Maggio D'Armino, grande dottore di preghiera, diceva, verità sarà ovunque legato dal Spirito Santo essere, da chiunque si è vendita la verità di avere lo Spirito Santo, se è la verità. come ciò si diceva, con quelli che si guadagna, non è guadagna, si sopravvive, contro chi si dona, si rive, bellissima, e non finalmente, a questo proposito, addirittura che da qualche Şimdi D'Armino, dove ho spiegato, come D'Armino, dove il Rad si sono budgetato, dove la loro parla sono strada, secondo me oggi mi dicono, se giustizio dove il studenti l'uomo ha tale, spiegato, la gente doveva fare il cliente, ma anche i suoi mani, le persone sapeate, i paesi che è vicino, ilばいogo, vedete un copri dice unaיה, ma dove quando si diceva, dove va a essere appайтuum, magari nella provincia già paese a parlare fraерхitt시죠, erano convinti dal caloriano che quella terra serviva, quella terra portava l'unità della nazionale, forse qualcuno non lo sapeva, quella terra portava il sussidante, cos'è un simbolo che sarebbe più affrontato, che già era in fase di composizione, hanno tornato la vita perché ci sta via la terra con attraverso, è un soggetto di mare è proprio questa che mi facciamo questa non è il sangue passato è la morte, è la violenza non facciamo questa per guerra facciamo questa per coloro che in quella circostanza che non difendeva da loro guidare in quella circostanza non è la cosa stessa è proprio questo ci dobbiamo pensare come oggi in circostanze, per fortuna, non solo di guerra ma di madre se guardiamo un po' per le cose stanzanate siamo chiamati a tornare a tornare perché è questo ci dobbiamo tutto questo ci serve a sopra la vita sopra la vita ma a vita la vita ci certamente grazie 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. L'eterno riposo donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Attenti. Onore ai caduti. 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 Onore ai caduti.